Passi di libertà è il titolo della mostra iconografica documentaria dedicata al settantesimo anniversario del voto alle donne che è stata inaugurata il 5 maggio scorso nel cortile della Camera del Lavoro di Reggio Emilia nell'ambito del circuito OFF della Rassegna Internazionale di Fotografia Europea e che viaggerà in Emilia-Romagna per poi approdare nei prossimi mesi in molte altre città italiane. Si tratta di un'esposizione itinerante realizzata dal coordinamento donne spicigelle di Reggio Emilia insieme al centro documentazione donna di Modena e i coordinamenti donne SPI di Modena dell'Emilia Romagna in collaborazione con la Fondazione Argentina Antobelli e la Cigelle regionale con il patrocinio della Regione, dell'Università di Modena Reggio e del Comune di Reggio Emilia. Curata nei minimi dettagli da Elena Falciani dell'ospicigelle di Reggio Emilia e da Caterina Liotti del centro documentazione donna di Modena la mostra racconta la strada percorsa dalle donne italiane attraverso le conquiste ma parla anche della strada da fare per la piena cittadinanza. Per me si è trattato di un lavoro particolarmente emozionante perché l'ho vissuto come un dono. Difficilissima è stata poi la cernita all'interno di queste centinaia di immagini e di documenti selezionati adesso però noi abbiamo un patrimonio preziosissimo che nella sua interezza vogliamo offrire a tutti coloro a tutte coloro che vogliano approfondire e conoscere la strada che è stata fatta sino ad ora dalle donne e tutta quella che resta ancora da fare. La mostra è frutto di un lungo e minuzioso lavoro di archivio tra Modena Reggio Emilia e Bologna un lavoro durato orari mesi e fatto di ricerca tanto di immagini quanto di documenti al fine di tracciare un percorso storico al femminile per tanti aspetti noto ma per molti altri ancora da rivelare soprattutto alle giovani generazioni. Sono 70 anni fatti di piccoli passi piccole conquiste le abbiamo chiamate conquiste di libertà proprio perché a partire dal diritto di voto che le donne italiane hanno avuto soltanto nel 1945 hanno votato per la prima volta nel 46 a partire da lì naturalmente le prime donne a entrare nell'assemblea costituente hanno creato insomma i punti i valori fondamentali per poter poi progredire tanto per dirne qualcosa non so il nuovo diritto di famiglia è soltanto del 1975 oppure le donne entrano in magistratura solo nel 1963 oppure pensate che fino al 1981 esisteva il delitto d'onore cioè un marito che uccideva sua moglie per difendere il proprio onore aveva una riduzione della pena e così via pensate che soltanto nel 1996 abbiamo avuto una legge contro la violenza sulle donne che ha fatto sì che lo stupro fosse un reato contro la persona e non contro la morale è un patrimonio anche per le donne immigrate e chi viene qui per lavorare sulla propria cittadinanza per ottenerla per conquistare quei diritti che nelle proprie nazioni non sono riconosciuti diritti sociali civili e politici in cui il diritto al voto per noi è stato un pezzo fondamentale ma non è stato l'unico in questi 70 anni oltre e quindi questo deve essere un impegno soprattutto a fianco a queste generazioni e come dire e chi sta arrivando da noi in termini di migrazione di spostamenti di rifugiati di richiedente asilo e quindi questa è una mostra aperta che si fa insieme alle persone